Abbiamo appena firmato questo accordo tra la Regione Puglia e l'autorità portuale per proseguire l'attività di ristrutturazione di tutto il personale che lavorava presso il porto di Taranto, nell'agenzia dei lavoratori portuali, che in passato ha dato buoni risultati avendo riprofessionalizzato 200 persone su 550, quali erano all'inizio, rimane da fare un lavoro importante ed è per questo che ho interessato sia il Ministro Urso che il Ministro Calderone, Ministro del Lavoro, per prorogare di un anno il termine di scadenza di questa agenzia in modo tale che i finanziamenti che la Regione sta offrendo per la riqualificazione professionale di questi lavoratori siano utilizzabili da un soggetto competente e capace di fare questo lavoro avendolo già fatto per otto anni. Quindi mi auguro che il Governo in una situazione sociale molto difficile, qual è quella dell'area industriale di Taranto, ci venga incontro e si renda conto dell'importanza anche per il Governo stesso di fare questo gesto di comprensione ma anche di rilancio della professionalità di questi lavoratori in vista dei numerosi investimenti che noi ci auguriamo possano al più presto avvenire nell'area portuale ma in generale in tutta l'area industriale di Taranto. Ferretti lamenta difficoltà nella bonifica delle aree dove si deve insediare e quindi io chiederò al famoso CIS, il CIS Taranto ha in mano 800 milioni della Regione Puglia e non so quanti altri soldi del Governo e di altre entità per fare le bonifiche, dopodiché queste bonifiche come tutti voi sapete hanno marciato a rilento e siccome tutta l'area industriale di Taranto o quasi tutta è un'area SIN, è chiaro che se non ci sono le bonifiche tutti i nostri progetti di gloria, di investimento e di diversificazione industriale rispetto all'ILVA vanno alla malora. Quindi il Governo deve rendersi conto che anche il CIS, che pure era un'invenzione dei governi precedenti, deve camminare svelto altrimenti rischiamo di perdere questi investimenti. Resta sulla questione Ferretti anche la mia amarezza perché io vengo bersagliato da un giornale in particolare che mi vuole far passare per un filo cinese. Io sono un occidentale puro, io faccio il tifo per l'Occidente, faccio il tifo per la Nato, nonostante alle volte non sia totalmente d'accordo su quello che fanno gli occidentali in tutto il mondo, chiariamolo perché non sono uno che ha buttato il cervello all'ammasso. Quindi non sono sospettabile di antipatriottismo, però io sono un patrioto soprattutto della Puglia, quindi quando Ferretti mi ha detto che voleva venire a investire a Taranto mi sarei vestito da San Cataldo, da San Nicola o da qualunque cosa pur di ottenere il risultato di questo investimento e vedermelo sfuggire tra le mani perché non stanno facendo una cosa ancora più importante se vogliamo dell'investimento che è la bonifica per la salute di tutti, è una roba che mi fa saltare i nervi e tutte le volte che le cose si accentrano e vengono gestite dai governi centrali, si bloccano, mentre onestamente la regione Puglia ha recuperato tanto in termini di efficienza e le regioni spendono benissimo i fondi che vengono messi a nostra disposizione, la Puglia è addirittura la prima regione italiana in capacità di spesa dei fondi, sinceramente mi fa rabbia perché se quelle bonifiche, anziché dare noi i soldi al governo per fare le bonifiche, ce li fossimo tenuti e ce li avessero fatte fare a noi, probabilmente avremmo già finito a questo punto e avremmo le aree disponibili per gli investimenti che servono come il pane perché altrimenti anche la ristrutturazione industriale dell'Isba che prevede anche una rimodulazione del porto che è una minaccia perché perdiamo i lavoratori che scaricano il carbone rischiando la vita, purtroppo non è il primo funerale a quale ho le tragedie che avvengono, da un lato c'è una minaccia ma dall'altro c'è la disponibilità del porto a nuove iniziative, quindi l'economia non è una cosa che si può fermare e che può avere i tempi di burocrati, di commissari, la logica dei commissari è una logica che spesso non funziona, ciò che rende efficiente una pubblica amministrazione è la gestione ordinaria, non la gestione commissariale, non è un riferimento a nessuno, è semplicemente una constatazione, il commissario del CIS è un gigantesco commissariamento completamente immobile che non ha mai funzionato, quando invece la faccia è di quelli che vengano eletti, perché a me mi hanno votato e io devo rispondere perché quelli che mi hanno votato mi chiedono di capire perché le cose non funzionano, invece devo subire continuamente espropriazioni di competenze che confondono anche i cittadini, che non sanno più chi è il responsabile di quello che succede. Grazie. Risolvere definitivamente la questione della Taranto Port Workers accompagnando i lavoratori verso queste nuove attività o l'ampliamento delle attività già esistenti e quindi dare un'opportunità lavorativa ai lavoratori.